Wella ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qui su Avorion, raga come sempre vi ricordo che in descrizione se può interessarvi trovate il link che vi permette di comprare tanti giochi scontati compreso questo Vi ricordo anche che in descrizione trovate la traduzione che ho creato io personalmente per questo gioco e anche la lista delle mod Allora dunque, nello scorso gameplay sono successe tante cose, adesso vi vado a spiegare, intanto ho scoperto anche un'altra cosa che adesso vedrete Ho scoperto che si fa punti relazione anche con le emissioni normali, cioè ho visto che anche commerciando si fa reputazione Tipo adesso, guardate, è bella alta la reputazione, sta per tornare un commerciante, ecco, relazioni più 2000 Volevo farvelo vedere perché giustamente è meglio vedere che solo dire Quindi non serve commerciare manualmente come ho fatto la volta scorsa, anche le emissioni ci fanno fare reputazione Però sempre fino a 65.000, dopo bisogna fare qualcos'altro, dobbiamo fare manualmente, cioè dobbiamo fare delle emissioni tipo Ok, quindi potete tranquillamente mandare in giro, insomma, commerciare automaticamente senza complicarsi la vita cercando rotte commerciali Allora, Cargo appunto è tornata e abbiamo finito di acquistare, no, questo è un altro, va bene Miner, oh, quanto li amo, guardate quanta roba che trovano questi Tanta bella, soprattutto questo, niente male, niente male questo qui Questo niente male perché, ecco, lì, efficienza 90, materiale titanio, se fosse stato una... No, unite era fantastico, però comunque Va bene Questo in teoria è quello che ci porta risorse, no? Non è lui? Ah no, le hanno già scaricate le risorse Nave mercantile, quella che mi ha fatto fare 2000 punti in reputazione E in più anche soldi, parecchi E poi ho mandato la recupera a Rottami in missione Anche quella, non scherza, mi ha trovato questa bella armetta Questa R-Miner, più scarsa di quell'altra, ma me l'ha trovata Un po' di risorse, ma soprattutto Mi... l'ho mandata, questa qui del recupero Rottami in missione Proprio per cercarmi armi perché ne abbiamo perso un bel po' ultimamente Però comunque roba scarsa, ho trovato No, roba scarsissima, schifezza Ha trovato schifezze, ma è colpa della zona in cui ci troviamo E poi ha trovato tutta sta roba Pure 100 pecore ha trovato Pure 100 pecore ha trovato Ok Comunque interessante Allora, detto ciò, quindi Come va questa miniera? Intanto 4 milioni e mezzo L'avevo potenziata al massimo questa Questa fa soldi che è un piacere in teoria, no? Mi pare? Li faceva? Boh, non mi ricordo Comunque sì, si guadagna Insomma, sì, sì, sì A proposito, a proposito, a proposito Lo vediamo meglio qui Quella che va un po' peggio è questa Perché questa qui sta accumulando un po' di argento Però alla fine Ogni tanto basta mandarci un mercante Un cargo, insomma Una stiva, chiamala come vuoi Una delle mie navi, insomma Carico e vado a vendere e via, no? Va bene Allora, quindi Che cosa ha fatto questa? Avevo finito, mi pare, ha detto di acquistare, no? Che ha detto cargo? Ho finito di comprare, sì Quindi facciamo Ok, adesso andiamo a vendere l'oro di nuovo Andiamo di nuovo a vendere quell'oro naturalmente Allora, dobbiamo quindi risolvere il problema Che abbiamo con quella fazione Visto che nel gameplay scorso I sorci verdi mi hanno fatto vedere E adesso la risolviamo E vi spiego un po', diciamo, la situazione Dunque, no, vabbè Facciamo 5 ore Miner, 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 miner Consegna immediata Più questo che altro, vai Allora, praticamente, ragazzi Io Ho sbagliato un po' tutto con questi Ok Il cessato e fuoco ce lo abbiamo Però non vuol dire che siamo amici Ecco, io non dovevo andare a casa loro Non sono gradito Il cessato e fuoco non significa che io possa andare a casa loro E di fatti l'abbiamo notato Quindi Entrare a casa loro O stare anche solo vicino a casa loro Perché Anche stare qui Significa stare vicino Comunque stare nella loro Vicino alla loro zona Fa arrivare quei dannati cacciatori di taglie Quindi finché me ne sto qui sopra Posso stare tranquillo Però Allora Cos'è il problema? I cacciatori di taglie Arrivano in due occasioni Se siamo in guerra Ma al momento non lo siamo Perché c'è il cessato e fuoco Oppure se abbiamo una reputazione di meno 80.000 E noi abbiamo una reputazione di meno 81.000 Quindi se io pago il tributo E arriviamo a meno 70.000 Con questi passiamo da ostile a relazioni cattive E automaticamente posso anche accettare le missioni In teoria E automaticamente non mi becco neanche più I cacciatori di testa Taglie quello che è Io lo pagherei volentieri Perché con 3 milioni in più Non ho rotture di balle con questi Ho dato 10 milioni Gli ne do altri 3 E me ne sto tranquillo Senza il rischio che perdo le mie navi e tutto Quindi questi vogliono Ti do 4 milioni E ti levi dalle balle 4 milioni Ti do pure 50.000 di questo 4 milioni e mezzo Che fa? Andiamo d'accordo? Oh Perfetto Accettiamo volentieri Allora con questi qua Non siamo neanche più Vedi Allora se io pagassi No non si può Ah si può pagare un tributo ogni 60 minuti Ok Tipo se volessi Ah ma il cessato e fuoco c'è ancora Ok il cessato e fuoco c'è ancora E forse fino a neutrale Non lo so Comunque Mi sono tolto il pensiero Tanti soldi bene o male Non sono un problema Però almeno io adesso qui sotto Con la mia alleanza Sono tranquillo A piedi vabbè Un altro discorso Ma tanto io a piedi Non vado mai da nessuna parte Quindi L'importante è che abbiamo risolto Sarò pure diciamo In guerra Personalmente Ma io navi personali Non ne ho Quindi sto a posto così Ma insomma Ci siamo tolti il pensiero Per non avere problemi Vi ricordo Meno Più Dobbiamo avere Relazioni Non ostili E cessato e fuoco Ci vuole Ok Per non avere problemi Con i cacciatori di taglie Non bisogna essere ostili E non bisogna essere in guerra E mo in teoria Non dovrei avere più problemi Speriamo Allora Recupero Rottami È tornato E lo vorrei Non lo so sinceramente Boh vabbè Però non importa Nave mercantile No Allora Dobbiamo risolvere Quel problema Perché di fatti Mi avete detto Nicche Ma è inutile Che tu hai sempre Navi buone Se poi alla fine Non hai le armi buone E lo so Di fatti Questa cosa La voglio risolvere Con le relazioni Se io arrivo Ad avere relazioni Eccellenti Posso usare Il Coso Posso usare La fabbrica Delle torrette Che è qua sotto La devo usare Questa Quindi Ok Sì Devo produrre Altre navi Non c'è dubbio Ovvio È meglio avere più navi Da guerra Però mi servono Armi buone Montate nelle navi Quindi Come facciamo Mi serve la fabbrica Della torretta Che mi fa le torrette Quindi A questo punto Direi che Devo vedere Cosa tengo Come armi Cioè Una delle mie armi Dovrei trasformarla Allora Innanzitutto Dovrei capire Questa fabbrica Delle torrette Che fabbrica è Il problema è Che Come faccio A saperlo Aspetta Aspetta Questo me lo dovrebbe dire Livello tecnologico Dunque In base al cerchio Questa è Tech 22 Vedete che c'è scritto Tech 22 Tecnologia 22 Quindi Beh più o meno Sarà Tech Questo sarà Tech 18 19 Perché 22 Penso che è più o meno Qua Quindi Una via di mezzo Non lo so Sarà Tech 18 19 20 Non lo so Non c'è scritto Bisogna vedere Le armi Che abbiamo Noi Noi abbiamo Armi Effettivamente Tech 18 Quindi in teoria Penso che Quella fabbrica Può lavorare Le mie armi Ah no Abbiamo anche Tech 19 Aspetta Allora facciamo Per Tech La migliore Che abbiamo È Tech 19 Quindi Dobbiamo trovare L'arma Più potente Che abbiamo E riprodurla Devo trovare L'arma Che costa Di più Non c'è Il modo Di vedere Il costo Di un'arma Più che Perché In genere Più è cara L'arma Meglio È produrre Quella Però Il problema È Qua ce n'è Una Da 21 Mila Fanno Un po' Cagare E questo È il mio Problema Fanno Un po' Schifo 21 Oppure Devo vedere Quelle montate Sulle navi Ne prendo Una E la smonto Comunque sia Dobbiamo fare missioni Perché adesso Siamo bloccati Siamo adesso Bloccati A relazioni 65.000 Più di così Non si può salire Quindi Adesso sono obbligato A fare missioni Per arrivare a 80.000 Di relazioni Mi servono 15.000 Allora Vediamo un po' Andiamo su Caccia Passa a caccia E andiamo a fare Una missione Due missioni Dobbiamo combattere Dobbiamo vedere Che armi troviamo E poi dobbiamo cercare Di riprodurre Delle armi E poi Dobbiamo Poi dobbiamo Fabbricare armi In pratica Quindi con quelli Ci siamo tolti Il pensiero Le navi Per ora Sono a posto Beh aspetta Fatemi vedere Che tipo di armi Montiamo Vabbè ma basta Che guardo da qua Allora 15.000 7.000 Fanno caccare In un modo Micidiale Oh ma qui Mancano armi Di brutto Che non mi ricordo Manco più Mamma mia Come stiamo messi male Eh si Purtroppo Non è che qui dentro Ci sta Una darsene Attrezzature Perché Voglio dire Me le devono Pur vendere Ah vabbè Niente Per ora Proprio Uno schifo DPS Mettiamo Una base Torretta Bella Grande Ok Lì Mi sa Che ci vuole La torretta Difensiva Che pure Quella è andata A farsi Benedire Vediamo Un po Eccola C'ho Ancora Due Buchi Liberi Per un'altra Arma Tipo qua Mi servirebbe Un'arma Due slot Però Questa è Purifying Salvaging Salvaging Lunga distanza No Queste due slot Fa Pina Ma è il meglio Che posso mettere Per ora E qua sotto Un'altra torretta Difensiva Ci posso mettere Ma non c'è Ah c'è Ok Allora Almeno questa L'abbiamo Un po Recuperata Questo che è Salvaging Allora Deposito Fabbrica torretta C'è pure qua Però più siamo vicini Al centro Meglio Oh questa paga bene Questa paga Bacheca Indagine Indagine sulle navi Da carico Scomparse Abbiamo bisogno di qualcuno Abbastanza coraggioso Accetta Allora Qual è Scusa Ehm Ne so Perso Depositor Chi era Che Traccia Fai rapporto Deposito Risorse Allora Sono qua Per trovare Le navi Allora Vuoi aiutarci Ok Ogni nave Da carico Invehiamo una rotta Scompara Ogni nave Che inviamo Scompara Faresti Finta di essere Una nave Da carico Sì Vi daremo Del carico Così potrete Fincere di essere Una nave Da carico Aspettate I conseguenzi Terribili Se non Lo restituite Molto bene Vi invieremo La rotta Che di solito Segue Le nostre Nave da carico Allora Mi hanno dato 45 patate 45 patate Dobbiamo andare A 272 195 272 Indagine Ecco Ho fatto bene A pagare Sti tizi Qua sotto Perché guarda Un po' Dove mi manda Mi manda In zone Parecchio rischiosa Alla fine Quindi Aver pagato Diciamo Il tributo Qui sotto Mi garantisce Una bella Tranquillità A cargo Devo fargli vendere A cargo Gli devo far vendere Si E' arrivato Mi fa Mi fa recuperare I famosi 3 milioni Che ho dato Di tributo Cargo Vendi Vendi Penta 7 e mezzo Come al solito Lui Un gruppo Di nave Aliene In azione Io a quelle Non gli dico niente Me ne vado Per la mia strada Caccia Caccia Andiamo qua Non mi va Di ingaggiare Battaglia Poi non so neanche Quanto so forti 590 Omicron Non so Tanto deboli Purtroppo Allora Ultimo salto Ovviamente Non troverò Niente Ci farà fare Un paio Di viaggi A vuoto E poi Finalmente Troveremo Battaglia E Ok Qui è dove Poi è successo Tutto quello Spara spara Ma a quest'ora Dovrebbe essere Tranquillo Ne è passato Di tempo In teoria Di tempo Ne è passato Lì sotto E poi qua Guarda te Mi fa avvicinare Al nemico Vedi Fatto bene A pagare Quei 3 milioni Almeno so Che non Mi ritrovo Sti cavolo Di cacciatori Di taglie Che poi Vabbè Comunque Ho fatto Un bel po' Di sbagli Nel gameplay Scorso Mi sono fatto Prendere Un po' Diciamo Diciamo Dall'improvviso Cioè Dal panico No Perché era Tutta una cosa Così improvvisa Non sapevo Come gestirmela Dove stanno Le navi qua E quindi Però Per fortuna Ne siamo usciti Vivi Recupera Rottami Grande Ne siamo usciti Vivi Per fortuna Almeno ho capito Una cosa Che quando Arrivano Quelle navi C'è quello Che ti blocca La fuga Quindi La prossima volta Il primo Che cerco di ammazzare È quello Che blocca La fuga Poi Saltano A 266 189 Sempre Sempre Un salto Oltre Il mio Possibile Oh Eccoli qua Finalmente Se volete Vivere Avete Solo Una opzione Sì So Qual è Ti ucciderò Ok Vai Siete In minoranza Sì Quello Lo so Allora Dunque Tutti Quanti Squadra Uno All'attacco Tutti insieme Praticamente Ho capito Raga Che basta Selezionarli Control Uno Si crea La squadra Quello che ho capito E poi Si può dire Alla squadra Cosa attaccare Così È buono Sparare Tutti insieme Allo stesso Tizio Diciamo No Così In teoria Se ci concentriamo Su uno Ovviamente Se riusciamo Perché Non lo so Se c'è Un modo Per dire Tipo Io Seleziono Quello E c'era Magari Un comando Per dire Sparata Quello E quello Di fatti Dove Ma quello Sotto A chi Sta Facendo Vabbè Fammi guidare A me Va Allora Dunque Dunque Numero Numero Attaccamo A questo Vediamo Un po' A chi È Quello A cui Ho Selezionato Eh Però Stiamo Sì Però Fanno Giri Larghi Allora Qui Si fanno Giri Molto Larghi Io Non sto A capire A chi Sparamo Perché Non si Vede Niente Ah Stiamo Sparando A quello Perfetto Sì Ma Stiamo A perdere Un mucchio Di scudo Eh Ok Numero Uno Sparamo A questo Tutti Concentrati Su D1 Ok So Quello Messo Peggio Scudo Faccio Che Qua Famo Un Incidente Faccio Che Do Vaga Assicurazione Poi Sì Vabbè Guardalo Guardalo Lo fanno Apposta Mi Mi Trattengono Penso Mi stavano Trattenendo Dai 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 Famolo Fuori Ok Hanno Mi hanno Tolto Lo scudo Vabbè Ci vado io A combattere Contro Quello Perché Ste Navi Ma Quello Mi stanno Trattenendo O So Raggi Laser O So Raggi Laser Non Capisco Ok Uno A Questo Non Non Mi piacciono Molto Sti Piloti Che C'ho Però Sti Capitani Mirano Proprio Male Meglio Che Ci vado Io Va Lo scappio Avanti Ne manca Uno Un Ne Avanti Famolo fuori Dai Ma Sta nave E' Proprio Difficile Da Manoprare Ci avrà Tanto Scudo Sta nave Ci avrà Tanto Di Tutto Però Poi A Ora Di Tenere La Posizione Qua Questo Scappa Cerca Di Tenere Le Distanze Vai Che ormai Non va Da Nessuna Parte Sì Ma io Non riesco A pigliare La mira Con Sta Nave Oh Completamente Missione Completata Ho Guadagnato 7500 Di Relazione Che Però Ancora Non mi Porta Ovviamente Dove Serva A me Ora Lui Diceva Mi Deve Restituire Il Carico Ma Non è Vero Non è Assolutamente Vero Non mi Dice Più Niente Per Quel Carico De Patate 45 Patate Poi Capirai Ok Vediamo Un po Che Quella Roba Ok Roba Che ho Raccolto Facciamo Riparazioni Roba Di poco Comunque Allora Abbiamo Terminato Una Spedizione Buono E siamo A 72 Mila Ci manca Poco Arriviamo Dove Dobbiamo Arrivare Grazie Per aver Sconfitto I pirati Prego Arrivederlo Allora Dobbiamo Andare A vedere Se possiamo Prendere Un'altra Missione Anzi No Aspetta Preferisco Qua sotto Sì Siamo Siamo Ancora Lontani Dalla Zona Comunque Di quelli Di quei Tizi Là Perché L'ultima Missione L'abbiamo Presa Dal Deposito Risorse Quindi Magari Questo Deposito Risorse Me ne Dà Un'altra Magari Quest'altra Missione Mi fa Fa L'ultimo Che Me Manca Indagini Nave Scomparse Eh Vedi Ah Stazione Commerciale Bacheca Indagini Nave Scomparse Accetta Stazione Commerciale Stazione Commerciale Io Attracco Ma dove sono le altre mie navi Sono rimaste indietro Allora Intanto Ste patate Famme le buttare Non ci fa Fammi buttare tutto Non ci faccio niente Questa roba Oh Le mie navi Sono rimaste là Ma perché Ah Già Perché gli avevo dato altri ordini Non mi hanno seguito Vabbè Lasciamole Li per ora Ora Poi Vediamo dopo 7500 Ancora Beh Se faccio altri 7500 Arrivo a Eccellente E così posso finalmente costruire Le torrette Con questi Poi però in futuro Mi faccio la fabbrica Io Perché non c'ho voglia qua Di fare ogni volta Sti lavori Si perde Una vita Fa sta esperienza Carino Che No Robaccia Ma comunque Abbiamo venduto Bravo Bravo Hanno fatto un'altra bella vendita Ora tornatele indietro Che facciamo Un altro carico Avanti e indietro Stessa missione di poc'anzi Uguale Quindi Dove che devo andare Oddio Non voglio andare nel territorio di quei tizi Però Ma è un po' Stupito Cioè mi sta facendo andare Quasi quasi Nel territorio Non dico nemico Perché bene o male In teoria Avendo pagato il tributo Non mi dovrebbero più rompere le balline Giusto? In teoria L'ho pagata apposta Caccia Segui caccia E tu pure Direi che andiamo qua Mi sta facendo andare Verso il territorio nemico Proprio una cosa che Adoro Guarda Ma in teoria Ho pagato il tributo Ancora 30 minuti Se voglio provare a ripagare un altro tributo Vabbè ma in teoria Ho letto Se non si è sotto Meno 80 mila relazioni E non si è in guerra Non ci sono cacciatori di taglie Quindi Che poi non è che è la prima Con cui sono in cattive relazioni Anche con questo Sono in cattive relazioni E non è che mi vengono a cercare Meno male che ho pagato il tributo Perché in teoria Perché in teoria In teoria cominciamo a essere vicini alla loro zona I cacciatori di taglie Vanno oltre la zona Della fazione Cioè più o meno Cioè i cacciatori di taglie Tipo da qui Arrivano più o meno qui Quindi in teoria Già i cacciatori di taglie Me li potrei beccare Però avendo pagato il tributo Non dovrebbe succedere Cioè ormai Ben o male Con questi E' a posto E quello chi è? Oddio Me so beccato un boss Ma andrà via subito di qua Quella è la IA Un boss Cioè manca pure Che me devo affrontare la IA Cioè non so manco come si fa Queste navi non sono adatte per ora Io sto cercando di migliorarmi E mi becco sempre gente troppo forte Fammi scappare via Non la voglio proprio Non ci voglio avere a che fare con questo Non l'ho mai affrontato Però so che è il boss Se me fanno andare via E' meglio Non ci voglio avere a che fare Per ora Quando avrò delle armi più buone Posso riuscire Tanto per andare via Ci vuole mezza giornata Qua Ci vuole mezza Mezza Beh Almeno sono contento Che non mi Cioè magari Se non la stuzzico Perché comunque Fa 1500 di danno E non so sinceramente Che armi usa Non so Se può arrivare qualcun altro Quindi Ok Ok Almeno so che la IA Non è aggressiva In automatico E già è qualcosa Andiamo a dare un'occhiata qui Già che ci siamo Vediamo cosa c'è Visto che il puntino è giallo Allora Mi ha detto Nuova voce La IA Comandante E con rendimento Mi ha detto Nuova voce De IA Però poi Non so dov'era Sta voce Boh Forse era l'enciclopedia Forse l'enciclopedia La IA Questo posto Non fa per te Banditi Sono banditi No Oh 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 Questo Oddio Sì 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 No andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo via Immediatamente Giusto Subito Questo è un posto Strapericoloso È territorio dei pirati C'è un cantiere navale Cosa significa questo Significa che qua Ci stanno navi Da diecimila di danno Se non di più Qua ci si crepa Sono già crepato una volta Via 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 Ma perché mi devo beccare solo gente E beh Colpa mia che sono andato nel puntino giallo Colpa mia Oh ma è mai possibile che becco solo cose troppo difficili Ma proprio Proprio sto gioco ce l'ha con me Proprio becco sempre situazioni complicate Io che sto cercando di sistemarmi un po' la situazione Becco sempre cose stracomplicate No perché se c'è Allora Questa è Questa è zona di pirati I pirati Controllato dai pirati Ci sta un cantiere navale Quando c'è il cantiere navale Sono cavoli amari Cantiere navale Pira Ancora la IA Che fa Mi sta seguendo Ok Va bene Perfetto Benissimo IA Si va IA 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 O Va la becca De IA Uh eccola Apparentemente Lì è stata programmata una volta Per difendersi dai XOTAN Le leggende dicono che il produttore ha promesso che non avrebbe mai attaccato i non XOTAN E invece E invece me sta seguendo Già bisogna vedere Bisogna vedere Non lo so Io non la voglio stuzzicare per ora Perché Con le armi che tengo Vorrei evitare Lo scontro Prima di avere qualche arma decente So che bisogna affrontarla E' un po' come a quell'altro boss Sworks Che abbiamo affrontato Però questo è più difficile ovviamente Allora no Più che altro è il discorso Ma la missione che fine ha fatto Ah era sparita 245 Ma come faccio ad andare dall'altro lato E' impossibile andare dall'altro lato Guarda Ma va fangulo Per andare da questo lato Devo andare nella fazione nemica Cioè ma tu dico Ma io dico Ma tu mi devi mandare nel mio nemico Menomale che ho chiesto E c'è stato il fuoco Va Ma poi Proprio qui No ma io non ci posso andare di là Perché Non c'è modo di saltare C'è una spaccatura che arriva qua sopra Dovrei fare un giro larghissimo Ma a me chi mo fa fa Io nel mio nemico Comunque non ci voglio ancora mettere piede Non so se mai Vabbè Praticamente Mandiamo indietro le navi E pigliamo un'altra missione E' l'unica E qua E' impossibile fare altro Stavolta sai che ti dico La missione Ma la prendo lontano Così non mi manda qua sotto Mi manda qua sopra E' che diamine però Proprio uscimo unito 13 minuti E' raga Impossibile Basta Annulla sta missione Ma che si scemo Abbandona Ma che ma cavolo vado lì sotto io Nave mercantile Passa nave mercantile Non lo so se possiamo fare esperienza con la nave mercantile Cioè non lo so Se Magari senza missioni Perché con le missioni Non si va oltre Ma se faccio un acquisto manuale Tipo qua L'alluminio Cosa c'è che costa poco qua? Rotta commerciale Non c'è niente Meno 20% Argento Eh non è male Dove? Miniera metallo nobile M Beh di sicuro Penso che abbiamo almeno visto Abbiamo di sicuro visto il fatto che non sono arrivati i cacciatori di taglie Perché ero così vicino A quello Avete sentito parlare della nave dove tutti dormono Il pilota automatico ha preso il controllo E ha messo tutti in crio sonno Abbù Non è la chia No però la io non la voglio affrontare E caspiterina sto sgobbando per beccarmi Perché non lo so se ci vuole eccellente Non eccellente Fabbrica torrette Ce n'è una qua? Ok c'è una fabbrica torrette qua Quasi quasi ci vado a passà Perché non so Io penso che ci vuole eccellente Boh io andando mi compro sto argento Che lo pago meno 20% E poi vediamo dove me lo posso andare a vendere Vediamo se mi dà punti in relazione In teoria li dava Beh voglio dire che devo fare per forza guerra Per avere relazioni buone Se io non ne volessi fare guerra Effettivamente Non ha molto senso no? Effettivamente Commercio a beni Argento Dammi tutto Argento Compra E non faccio E non ho fatto esperienza E niente Niente Che diamine Eh Non si può migliorare con Col commercio Che sfortuna Aspetta io ho comprato argento E mo chissà dove si vende Non è che si vede Per caso ci abbiamo Sotto sistema commerciale Di quello buono Blu non è meglio di Gittata 10 Gittata 5 Ok ce ne abbiamo uno Più buono C'è una darsena Attrezzature in zona Sì proprio da questa parte No c'è uno sbattere La fan di Madonna Meno 2000 Meno 2000 relazioni E a me così vanno le cose Ma porca Ma come mi devo incavolare Io Perché Madonna Che mi fa girare le balle Fare relazioni Odio le relazioni Le detesto E' difficile farle Ci vuole due secondi A perderle Qua c'è il culo lungo Mo sono sotto i 70.000 Allora Che c'avete di bello Salvaging Torretta Qualche arma decente Beh Arriva fino a 265 Comprova Sottosistemi Da mining Questo Mi serve 100.000 Va bene Scan booster Sì mi serve Visto che mostra I famosi puntini gialli E quant'altro Potenzia motore Potenzia Iper spazio Sì per il salto Perché no Mining Va bene Energia generata Perché no Convertitore Energia scudo Seppur scasso Pgliamoli E sempre Qualche cosa Ce la si fa Boh Basta Allora Volevo fare Quel discorso Che tolgo Questo E ci metto Questo Che questo Va più lontano Quindi ora Se apro La mappa Mi dovrebbe mostrare Ecco una zona Più ampia Quindi sappiamo Che l'argento Dovrebbe valere Di più Qua sopra Allora Vendere qui Platino Ma allo stesso tempo Comprare qui Vabbè Ah già Dobbiamo andare Alla fabbrica Delle torrette Perché voglio vedere Sta cosa Voglio andare Alla fabbrica torrette Per vedere Cosa devo fare Per fabbricare Ste cavolo Di torrette Crea torrette Allora Beh Pare che La potrei fare Però Vabbè Queste sono Tech 16 Sono scarse Non lo so Però Effettivamente Boh Vabbè Io non ho i materiali Ah ok Per costruire torrette Di livello eccezionale O superiore Sono necessarie Relazioni eccellenti Quindi Per torrette Di livello eccezionale O superiore Eccezionale Quale cavolo È eccezionale Non comune Raro Questa è esotico Ah proprio Eccezionale Ah Ah vedi Ebbè certo Io voglio costruire Quelle buone Eccezionali Quelle d'oro Quindi senza La reputazione buona Sono limitato A queste torrette E quindi vedete Che devo comunque Arrivare a eccezionale Se voglio costruire Queste due Tipi Deve arrivare Eccezionale Roba che si potrebbe Vendere insomma Vabbè Allora Nave mercantile Vedo che il prezzo Migliora qua sopra Quindi Ti mando qua sopra E poi Boh E poi Si fa sta vendita Viaggia Più o meno Viaggia qua La sopra Pare che la situazione È migliore Quindi Caccia Passa a caccia Che sfortuna Quell'altra missione Del cavolo Consegna Carbone Opportunità Trasferimento nave Carburante Trasferimento nave Carbone Abbiamo bisogno Di un buon pilota Con tempo Abbiamo Questa spendita nave Deve essere Asportata A un cliente Soldi facili Per pilota esperto Tecnicamente Se volete Se volete La nostra nave Dovete pagare Un deposito Lo riavrete 38.000 Uuuu Che ci vuoi 38.000 Tu pigliateli Ok Vola Con questa nave In modo sicuro Fino a 279 208 Nave Ukeka 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 Ok Sto giocattolino qua Sto giocattolino Quanto scudo tiene 2.000 Di vita Abbosto Dov'è che deve andare Questo giocattolo Scusa Trasferimento Ah qua Vabbè dai Ah ci potrei anche andare Da solo Tanto alla fine Non è complicato Se seguo la strada pulita Tanto pure che mi Pure che mi porto La scorta A che a me serve La scorta Con un sputo Muoio Cioè la scorta È inutile Cioè con uno sputo Muoio Capito Cioè non mi serve a niente La scorta qui A meno che non ci posso mettere Uno di quei cosi Cos'è Oh la tua nave È molto debole Madonna È vero Mi sono dimenticato Di sto piccolo problema Mo verrà tizio A cercarmi Oh via 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 Sta nave Scoppierà facile facile Andiamo Andiamo No Col portale Allora c'è un mega problema Sta nave Non si può difendere Quindi sto simbolo qua Significa che tra poco Arriva qualcuno Apposta a farmi scoppiare Altro che missione facile Anche se seguo la strada Tranquilla Penso che sono in pericolo Quanto ci vuole Lo fa apposta Lo fa Ma è scemo Ah non partiva lui Ma chi caspita Ma cosa da pazzi Il pilota automatico Stava a perdere tempo E mo speriamo Salve grazie per la sfida La nave Me ne occupo subito Prima di tutto daremo Una rapida occhiata Hai preso tutte le due cose Sì Bene controllo cosa Trasferimento nave Stazione commerciale Planetaria No Sì Mi devo fare 60 km Ancora Più vicina Potevate mettere Sto stazione No Ci siamo Allora Questa consegna Ok Tutto a posto Bene Non sono stati rilevati I danni Ok Non c'è di che E mi hanno pagato 6500 di Di relazione Ho raccolto Una unite Mi so fatto 6500 Di reputazione Beh buono Dai Quindi automaticamente Ragazzi C'è da sgobare ancora Così tanto Quanto Caspita Di relazione Avevo Boh Boh Vabbè Oh raga Purtroppo Devo concludere Il gameplay Spero vi sia Piaciuto E niente C'è da ancora Da sgobare un po' Per fare Le ultime 10.000 punti In relazione Che vedevo di Mi raccomando Ragazzi Come sempre Commentate Iscrivete Lasciandovi E pollice in su Ci becchiamo Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.